Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa la chiesa nella città. Questa settimana affrontiamo argomenti diversi ma comunque legati da quel filo rosso che è la mission della nostra trasmissione e allora non possiamo che iniziare con un ospite di eccezione permettetemi di dirlo che è il vicario generale, benvenuto Monsignor Franco Agnesi, che è con noi rubando un po' del suo prezioso tempo per parlare di alcuni cammini che sta compiendo la nostra diocesi, importanti come il cammino sinodale, le assemblee sinodali dei canali e molto altro, i gruppi Barnaba, ma poi anche uno sguardo importante oltre la sinodalità e con la sinodalità sul direttorio che è stato di recente, diciamo, reso pubblico relativo alle comunità pastorali e poi affronteremo ultimo ma non ultimo come si dice l'appello che è stato lanciato dall'arcivescovo per la pace, non qualcosa di generico ma un impegno preciso che sarà importante seguire come conversione del cuore nel periodo di quaresima. E allora, Monsignor Agnesi, lei proprio ieri per chi ci ascolta in diretta di giovedì ha partecipato a questo convegno importante, sarebbe stato il compleanno del Cardinale Martini che era nato il 15 febbraio del 1927, dove si è parlato di Martini, maestro di sinodalità, con il titolo di un bel libro edito da Centro Ambrosiano, ITL Libri, Sciogliere il cuore. Cosa vuol dire? Il titolo è molto evocativo, noi sinodalità l'affrontiamo come tema spesso di carattere un po' astratto, le regole che riguardano nella Chiesa i procedimenti che giungono alle decisioni da prendere possibilmente insieme e dunque si sta dibattendo con interesse su questo. Ma forse proprio che ciò che il Cardinale Martini ci ha suggerito e che ritroviamo nei testi raccolti in questo volume è che non può esserci nessuna forma di cammino comune se il cuore è rigido, se è fermo, se è bloccato e dunque sciogliere il cuore. Lo vediamo proprio in questo momento, grazie regia. Non è soltanto diciamo un'operazione un po' psicologica o comunque quasi di dire beh dai fa il bravo mi raccomando, no vuol dire lasciarsi guidare da ciò che il Signore ha fatto quando incontrava le persone, quando ha deciso di camminare verso Gerusalemme seguendo appunto la volontà del Padre che era quella di mostrare la vicinanza di Dio a tutti. Ecco una Chiesa che si mette in questo movimento di sciogliere le rigidezze e domandarci che cosa può essere vissuto oggi insieme come evangelico è ciò che appunto Carlo Martini ci ha dato come metodo, come è stato ricordato ieri molto bene, ma anche molti contenuti del suo stesso Magistero, soprattutto la grande lettera introduttiva al Sinodo 47esimo, ci ancora oggi ci possono illuminare. Interessante, ieri nel convegno di cui stiamo vedendo delle immagini, ora Monsignor Erio Castellucci che è arcivescovo di Modena e vicepresidente per l'Italia settenzionale della conferenza episcopale italiana, dicevo interessante è stato proprio quest'idea di una Chiesa in cammino e questo ci porta subito sulle vie della sinodalità. Sinodalità che dopo la Costituzione e il mandato per i gruppi Barnaba ormai era l'ottobre del 2021 ha vissuto il primo anno, si sono conosciuti, hanno affrontato già il territorio, hanno fatto da cinghia di trasmissione tra la Chiesa locale e appunto lo spazio territoriale del decanato. Ecco ora siamo nel momento della Costituzione delle Assemblee Sinodali dei Canali. Come le sembra andare questo cammino? Lei ha proprio annunciato tra l'altro quest'inizio l'8 settembre alla via dell'anno pastorale. Sì, forse è utile ricordare che nel cammino sinodale della Chiesa universale che appunto sta svolgendo anche tutte le tappe, quelle continentali e quelle che arriveranno poi a una prima conclusione, c'è anche il cammino della Chiesa italiana che aiuta a diciamo a cambiare un po' lo stile con cui noi facciamo delle proposte come Chiesa che nascono non più da un progetto così astratto, pensato, ma che nascono dall'ascolto, del vissuto della Chiesa e di ciò che lo Spirito sta facendo. E come diocese abbiamo scelto, l'arcivesco ha indicato degli esercizi concreti di sinodalità, ma attorno a che cosa? Non a questioni così di organizzazione, parocchiale, chi comanda, chi non comanda, vabbè, ma soprattutto il discernimento rispetto al compito missionario, cioè ci siamo detti, nel nostro territorio del Decanato, quali esperienze di vita cristiana, di testimonianza, quali domande di Vangelo noi scopriamo, quale realtà belle noi possiamo scoprire che sono davvero evangeliche. Diamo voce a queste, teniamone in comunione e intuiamo che magari c'è qualche passo da fare, qualche decisione da prendere. Ecco, allora questo è il frutto del gruppo Barnaba, il quale, il gruppo Barnaba si è messo al servizio di questo sguardo della Chiesa, è un po' come faceva Barnaba, mandato dagli apostoli di Gerusalemme, d'Antiochi a vedere la grazia di Dio, a dire si rallegrò e poi intuì che lì bisognava chiamare Paolo per poter portare il Vangelo. Ecco, anche i nostri amici del gruppo Barnaba hanno intuito, visto la grazia di Dio che opera e stanno domandando ma come possiamo insieme decidere delle scelte missionarie che possano appunto accompagnare il cammino di questa realtà, del territorio in cui siamo. È quello che stanno cominciando a fare le assemblee sinodali, le canali. Tra l'altro all'interno del cammino formativo proposto a laici consacrati, clero della Diocesi dal titolo Il Ramo di Mandorlo che si è articolato quest'anno in cinque incontri, per la prima volta si sono presentati diciamo pubblicamente raccontandosi proprio alcuni altrettanti cinque gruppi Barnaba di decanati appartenenti a diverse zone pastorali della Diocesi. Con le parole chiave, uscita, metodo, relazioni, fatica, racconto, sempre con la presenza dell'arcivescolo. Ecco, è stata un'esperienza bella, è stata un'esperienza che probabilmente sarebbe bello anche seguire. Altri gruppi Barnaba possono raccontarsi, qualcuno, qualche decanato ha già costituito l'assemblea sinodale decanale, qualche altro si sta approcciando a questo. È una chiesa in progress possiamo dire? Certamente è un ramo di mandorlo che se non ricordo male è il primo a fiorire ma è l'ultimo poi a portare frutto e dunque devo avere anche pazienza in questo. Che cosa sta succedendo? Si sono accorti anche con le fatiche, con le difficoltà che quando si incontrano gli altri ci si ascolta e si raccolgono le cose buone che ci sono. Questo porta gioia, porta capacità di lavorare insieme, porta anche a una stima reciproca, a intuire il dono che ciascuno è e può diventare a sua volta poi anche un segno che dice stimolare anche altri a vedere le cose così. Ecco, la preoccupazione in questo momento è che queste esperienze belle dei gruppi Barnaba non rimangano solo loro ma diventino un piccolo contagio a dire che tutta la chiesa può fare così. Ci ascoltiamo, ci incontriamo, vediamo il bene che c'è e poi decidiamo qualche cosa di servire, di portare avanti e di incoraggiare. Sì, certo. Anche dalle fatiche si impara, anche dagli errori. Per la cronaca le immagini che abbiamo visto riguardavano il primo incontro dei gruppi Barnaba e il decanato coinvolto era quello Peschiera, Sandonato, molto molto ampi in zona pastorale, Sesta. Parliamo anche delle comunità pastorali, anche qui un cantiere forte di riflessione, di ripensamento ed è arrivato il cosiddetto direttorio. Ecco, di che cosa si tratta? Le comunità pastorali sono nate le prime 16 anni fa con il cardinale Tettamanzi che ha continuato quella spinta che il cardinale Martini aveva avviato, poi il sinodo diocesano 47esimo aveva stabilito, cioè di allargare i paletti della tenda, della chiesa in modo tale che si entrasse tutti in una dinamica missionaria, cioè il cardinale Tettamanzi lo diceva bene, la mia parrocchia, amo la mia parrocchia come la mia, amo la tua parrocchia come la mia. Ricordo quell'omelia famosa del 13 aprile 2006, Giovede Santo, in cui si annunciano il tuo uomo, le comunità pastorali. Come faccio ad essere contento io se quelli della parrocchia vicina non hanno delle risorse spirituali, non sono, riescono, non celebrano bene la messa, ma certo se a me interessa la mia messa di comodo al mattino, l'altro mio campanile basta, allora alla fine moriamo tutti e forse, forse, qui sparo un po' però ho l'impressione che il Covid ci abbia anche costretto a dire sì o facciamo così, ci aiutiamo oppure moriamo e chi ha pensato di far solo da sé difendendo se stesso è stenuato, non ne può più. Ecco, le comunità pastorali sono andate per quello, come non possiamo aiutarci a essere cristiani, a celebrare l'eucaristia, a vivere la carità, a comunicare la fede, se non appunto aiutandoci vicendevolmente, scambiandoci i doni che almeno sul territorio vicino facilmente possiamo fare. Lo slogan delle comunità pastorali è rimangono le parrocchie, cioè la vicinanza della chiesa alla gente, quindi anche la struttura parrocchia, anche se non c'è un prete che ci abita, però ci abita una persona o una famiglia o un diacono, qualcuno che tiene aperta, ma non soltanto la porta, tiene aperta la chiesa come luogo di incontro, di preghiera. Quindi rimangono le parrocchie, ci si scambia dei doni, una parrocchia a una tradizione, a delle strutture, a delle realtà che possono aiutare le altre vicine per essere più missionari, perché in questo modo ci si rende conto anche di ciò che altri magari appena arrivati, arrivati in un quartiere, persone immigrate, oppure necessità che nascono, oppure appunto realtà che hanno semplicemente bisogno di essere accuditi e incoraggiati. Pensate che attualmente sono ben 192 le comunità pastorali in diocesi, un bel cammino. Questo documento del direttore è stato presentato il 4 novembre scorso ai presbiteri responsabili delle CP, ai decani il 4 novembre, scusate, il 19 gennaio ai presbiteri responsabili e anche a tutto il popolo di Dio. Abbiamo visto le immagini in Duomo, quarta domenica d'Avvento, quattro dicembre, l'omelia dell'arcivescovo è stata proprio una sintesi del direttore. Ma sai che è successo un miracolo? No, mi dico. Quando abbiamo incontrato i responsabili del comitato pastorale, sono venuti in 175 sui 192, gli altri avevano qualche impegno, funerali. Certo. E questo gruppo di preti ha fatto una giornata di confronto, di scambio di racconti sul direttorio, quindi su un testo che era stato frutto di un lavoro di due anni, e sono stati contenti. I preti contenti è il vero miracolo. Trovare i preti contenti è il vero miracolo. È un miracolo a Milano. Abbiamo lavorato bene, perché ci siamo raccontati, perché ci siamo sostenuti. Credo che questo sia più che il testo è lo stile con cui abbiamo lavorato e con cui loro hanno lavorato. Penso che questo, se si trasmette anche un po' di più nella realtà quotidiana, anche nelle comunità, questo può portare tanto frutto, perché alla fine ci si accorge che ci siamo alleati tutti per la stessa cosa, cioè perché il Vangelo possa essere accolto, celebrato, vissuto nella realtà tra le case in cui la gente vive. Ma anche con quelle dinamiche di legame che oggi i social, la cultura, i viaggi, lo studio, può portare a vivere delle relazioni non soltanto territoriali, ma anche delle relazioni personali di altro genere. Oltretutto il Signore dice ai discepoli, vieni e seguimi, vieni, siediti, ascoltami. Quindi bisogna camminare. Non possiamo dimenticare che in questa settimana che entra prossima, ricorre un anno dallo scoppio della guerra russo-ucraina. E allora un messaggio importante lo potete trovare sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it proprio per chiedere la pace, firmato dal raccivescovo, è anche una preghiera da lui scritta, una sorta di padre nostro. Ma non si tratta, come dicevo, solo di un appello generico, è qualcosa di più, un invito alla conversione, fin dalla prima domenica di Quaresina. Certo, qualcuno potrebbe dire ma cosa serve appellarci in modo generico, le questioni sono anche varie di carattere politico, militare. Certo, certo, certo. Però chissà perché noi parliamo soltanto di guerra, delle armi da mettere, delle cose da portare. Tutto con una valutazione anche cultural, politica, sociopolitica, reale, vera. Ma declinare la pace, dire ma che passi possiamo fare. C'è ancora tempo per fare qualche passo che pur tenendo presente la realtà, come è nato, tutto questo, però susciti fantasia. Ecco, questo ci sembra che manchi un po'. E l'arcivescovo diceva, il Papa continua a dirlo, perché non dobbiamo dire accompagniamolo, aiutiamolo. Facciamo in modo che questa voce non rimanga soltanto così isolata, magari anche un pochino dileggiata. Ecco, proviamo, facciamolo come possiamo fare noi come Chiesa. Avviando la Quaresima e scoprendo che la Quaresima ci chiede una conversione, una penitenza e una preghiera. La conversione vuol dire esattamente mettermi anch'io la domanda, dicendo ma appunto come posso impegnarmi. C'è anche un po' la proposta di dirlo in maniera semplice, non si fa una raccolta di firme tanto per fare. Io ci sto, voglio fare qualcosa, sottoscrivo che questa cosa entra nella mia vita. Poi appunto c'è la penitenza, cominciando dal digiuno quaresimale, che porta poi alla carità, a compiere dei gesti, dei passi che valuteremo, ma che dice ci stiamo lavorando, siamo dentro e vogliamo che questo tema accresca in noi. E poi l'invocazione alla pace, una bella preghiera che l'arcivescovo ha scritto e che può diventare, potrà diventare anche la nostra preghiera di Quaresima. E a questo proposito certamente ne parleremo ancora, questo appello si può, diciamo, sottoscrivere virtualmente, ma ovviamente le parrocchie se vorranno potranno farlo anche con modelli cartacei, dicevo virtualmente con un format apposito che troverete sul portale della Diocesi proprio da domenica 26 febbraio, prima domenica di Quaresima e il 3 di marzo, primo venerdì di Quaresima, l'arcivescovo invita tutti in Duomo a un momento dalle 13 alle 14 di preghiera e di digiuno se si vorrà appunto iniziare a convertire il cuore, come scriveva anche il Cardinale Martini e quindi ritorniamo a dove siamo partiti perché tutto si lega. Io veramente ringrazio allora il Vicario Generale Monsignor Franco Agnesi di essere stato con noi, lo invito per una prossima volta, non è una minaccia, quindi lei dica tranquillamente certo, va bene. Volentieri. Grazie davvero e quindi siamo giunti alla conclusione della prima parte del nostro programma, ma torniamo tra pochissimo con un altro tema, la finanza sostenibile. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, adesso cambio di ospite, con noi collegate, la ringrazio veramente tanto, la professoressa Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie Finanziare e Assicurative presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, benvenuta. Grazie molto a voi per l'invito. Grazie a tutti. la sua comunicazione in questo convegno e allora noi vogliamo chiederle anzitutto, ma cos'è questa sostenibilità della finanza? Ora si parla di sostenibilità ovunque, ambientale, della finanza, dello sport. Cosa significa? Certo, è vero. L'attenzione negli ultimi anni dedicata al tema della sostenibilità, forse anche in maniera superficiale, è da parte di una pluralità di attori del sistema economico, finanziario, fino anche ad arrivare al sistema politico. e però non dobbiamo dimenticare che questo è un concetto che trova delle radici molto antiche, perché è un concetto introdotto già nel 1713 da questo Hans von Karlovitz, che era sovraintendente minerario, amministratore contabile forestale in Sassonia e che va a studiare come garantire un uso continuo, durevole, rigenerabile delle foreste. Stiamo vedendola, interrompo solo un attimo, proprio il momento della sua comunicazione in facoltà teologica. Prego. Grazie. E allora l'idea è di comprendere come realizzare uno sviluppo economico nel presente, senza però danneggiare lo sviluppo futuro. Ecco l'idea di sostenibilità nella sua essenza, tenere conto delle ricadute, delle azioni economiche per le generazioni future. Devo dire che le discipline economiche non hanno forse prestato sufficiente attenzione e considerazione a questo tema, perché se andiamo a contare la quantità di studi dedicati al tema della sostenibilità in chiave ambientale, in particolare con riguardo al riscaldamento climatico, vediamo che pochi lavori sono stati dedicati a uno studio attento di queste questioni. E questo è un problema, perché se vogliamo costruire delle policy, quindi delle politiche che tenganno ben conto dei presupposti del fenomeno della sostenibilità, per andare appunto a favorire uno sviluppo sostenibile, è molto importante disporre di analisi empiriche, di studi teorici che badano alle radici del fenomeno. Noi invece le discipline economiche si stanno dedicando a questi studi negli ultimi anni, ma in passato questo è stato molto più raro. Con un'eccezione, se posso, che ci terrei a menzionare anche perché è stato oggetto del conferimento di una laurea onoris causa in Cattolica da parte della Facoltà di Scienze Bancarie e Finanziarie Assicurative lo scorso dicembre, che è il noto rapporto Stern, il primo rapporto dedicato in maniera rigorosa allo studio delle questioni climatiche, che ha riconosciuto il cambiamento climatico come il più grande fallimento di mercato mai sperimentato. e sulla base di questo presupposto ho poi identificato la necessità di un'azione forte e tempestiva. Ecco, cosa significa l'acronimo ESG, che ora è molto di moda, si scrive ESG, lo vedete spesso sui giornali, non solo negli articoli finanziari o delle pagine economiche. ESG è l'acronimo che sta per Environmental, quindi ambientale, social, sociale, governance, quindi le questioni legate al governo societario. Quindi vuol dire che la sostenibilità viene declinata, molto spesso appunto in ambito bancario e finanziario, ma non solo, secondo le tre categorie, la categoria ambientale, la categoria sociale e la categoria di governance. È interessante comprendere come si tratti generalmente di un rating, di un punteggio, una valutazione ESG, che va proprio a determinare o cercare di stimare il livello di sostenibilità che un'impresa nella sua attività riesce a realizzare. E questo acronimo racchiude in sé le due dimensioni tipiche della sostenibilità, cioè la dimensione ambientale e la dimensione sociale, mentre la governance rappresenta quell'insieme di meccanismi interni all'azienda che consente appunto di realizzare un governo e un controllo che vadano a favorire la sostenibilità. Potremmo dire in un certo senso che la dimensione ambientale e quella sociale sono i fini della sostenibilità, quindi realizzare uno sviluppo sostenibile in chiave ambientale e sociale, mentre la governance della terza categoria è una sorta di mezzo per realizzare appunto internamente all'azienda delle decisioni che vadano verso la sostenibilità. Quello che ci terrei però a sottolineare è che questo concetto di sostenibilità in chiave ISG, che è quella dominante oggi, è un concetto più limitato rispetto alla sostenibilità intesa secondo la dottrina sociale della Chiesa, perché nell'ottica della dottrina sociale della Chiesa la sostenibilità richiama una visione integrale che sappia tenere conto certamente di ambiente, società, economia e dell'interconnessione tra queste dimensioni, ma che non dimentichi la persona e la promozione integrale. Ecco, proprio a questo proposito capite bene che parliamo di questi temi secondo la mission della nostra trasmissione, cioè una presenza dei credenti nell'agone sociale, nella vita buona della società, perché anche un apparato così importante come quello dell'economia possa dare un proprio contributo senza demonizzazioni eccessive. Però, l'abbiamo già detto, c'è un rischio un po' di modi opportunistiche nelle società, ossia appunto tante iniziative sociali che coinvolgono grandi gruppi, e anche di quello che ormai si chiama il greenwashing. Che cos'è questo greenwashing? Un lavare verde. Questo lavare verde è uno dei rischi più alti che io vedo per questo processo verso la cura della sostenibilità, perché sono quei meccanismi utilizzati dalle imprese per nascondere delle pratiche aziendali che siano poco sostenibili o addirittura per trarre un vantaggio ingiustificato dal richiamo alla sostenibilità. In un certo senso io direi che il rischio è quello di usare l'ISG o la sostenibilità come un segnalatore di virtù che invece va a mascherare delle situazioni appunto opportunistiche o addirittura degli illeciti all'interno delle imprese. Quello che diventa essenziale in questo processo verso la sostenibilità è che le imprese riorientino concretamente i loro processi, le loro attività verso la sostenibilità con una coerenza di comportamento che richiede innanzitutto, se vogliamo avere questa attenzione verso le generazioni future, lo sviluppo economico e sociale futuro, richiede un orientamento di lungo periodo. E questo contrasta con invece una tendenza molto diffusa a prendere decisioni con una visione che si limita all'immediato. Qui bisogna tornare a orientare decisioni e scelte verso il lungo periodo. Questo è molto importante ed è un richiamo contenuto anche in un recente documento della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, documento mensuram bonam, misure coerenti con la fede per gli investitori cattolici. È un documento pubblicato in novembre dello scorso anno che porta proprio a innanzitutto andare oltre la definizione ISG verso quella definizione di ecologia integrale proposta da Papa Francesco nella Laudato Si e che prende in considerazione appunto la persona, la sua dimensione relazionale, oltre chiaramente alla cura del creato e al sviluppo inclusivo. C'è un altro documento molto importante che è economice e pecuniare questiones dove si indicano specificatamente alcuni esempi virtuosi di sostenibilità anche nella finanza. Penso per esempio alle banche di credito cooperativo che sono nate nell'Ottocento proprio per fare rete, quello che oggi chiameremo fare rete, per aiutarsi nel territorio. Ecco questi sono ancora esempi, ricordo Anpassan che l'arcivescovo è molto attento alle BCC, partecipa via via, ha partecipato negli anni alle assemblee generali delle BCC in cui si presenta il bilancio sociale. Sono ancora esempi che possono essere utili per questi invece mondo che pare un po' pieno di cocodrilli, scusi l'espressione. Sono un esempio ancora estremamente positivo e direi anche estremamente efficace perché è uno di quei contesti in cui è proprio insito nel modello di servizio, nel modello di attività il concetto di sostenibilità sociale. Nel credito cooperativo non è solo una spunta di n criteri per arrivare a un rating la qualificazione di sostenibilità. La sostenibilità è insita nell'attività della banca perché ricordiamo che nel credito cooperativo la funzione sociale non si limita al soddisfacimento dei bisogni degli associati ma va oltre, va a interessare i territori di appartenenza perché i vantaggi realizzati con l'attività della banca sono distribuiti all'intero territorio. Tanto che oggi credo sia più opportuno parlare di credito cooperativo facendo riferimento alle banche mutualistiche di comunità. Sono delle banche di comunità dove trovo espressione un concetto molto fondativo della tecnica bancaria che è il cosiddetto credito di relazione, ovvero per effetto di questa prossimità geografica tra banca e cliente e di quindi una relazione che si basa sulla fiducia tra banca e cliente che spesso è anche socio, si va a determinare un modello bancario in cui si realizzano anche delle forme di socializzazione dei costi tipici dell'attività bancaria. Mi spiego meglio, nel momento in cui devo andare a selezionare in quanto banca il prenditore di credito, chiaramente ho una valutazione molto puntuale che comporta una serie di costi. Quello che avviene nel credito cooperativo è che questo processo si realizza su una base fiduciaria tra banca e cliente che porta a realizzare dei risparmi di costo proprio su un'attività invece che nelle banche tradizionali richiede la ricerca di efficienza per il tramite delle economie di scala. Quindi un modello molto attuale e molto capace ancora oggi di portare un contributo significativo allo sviluppo di piccole e medie imprese o micro imprese che sono i principali destinatari dell'attività di erogazione di credito. E sono anche la base di una possibilità anche, ritorno al termine, sostenibilità del sistema paese con le piccole e medie imprese di gestione anche familiare. Io ricordo ancora che la Chiesa, la nostra Chiesa è attenta a questi temi, lo è sempre stato e quindi per esempio il volume Quali responsabilità della finanza che proprio vede il dialogo tra l'arcivescovo di Milano e alcuni presidenti di grande banche a sua cura ovviamente non è una questione di pubblicità ma è per dire che ci sono anche degli strumenti su cui si può apprendere questi temi che ripeto sono fondamentali per la nostra convivenza e così pure il più recente Credito e responsabilità sociale sempre edito da Vita Pensiero che è l'editrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sempre a cura della professoressa Beccalli dove si trovano molti spunti. Tra l'altro è stato presentato questo saggio in Università Cattolica con la presenza di Monsignor Delpini che in quell'occasione aveva anche accennato alla responsabilità della politica in un contesto più ampio di economia quindi per concludere se lei dovesse dire, capisco che sia un po' banalizzante ma è ottimista sulla tenuta di questa responsabilità e di questa sostenibilità o pensa che ci sia anche tanto di moda? C'è una parte senz'altro legata alla moda di un momento ma io ritengo che proprio grazie al rigore all'attenzione come ci ha incoraggiato a fare il nostro arcivescovo che possiamo andare a realizzare concretamente uno sviluppo economico sostenibile in chiave inclusiva perché soltanto andando a analizzare molto puntualmente e molto rigorosamente quelli che sono i limiti oggi di questo quadro in cui la sostenibilità si sta sviluppando. Penso per esempio ai limiti che oggi riguardano la quantificazione di questi rating ESG o piuttosto i limiti legati alla scarsità di dati per calcolare anche per le piccole e medie imprese questi stessi indicatori. Ecco allora lavorando concretamente ponendoci gli interrogativi giusti io sono molto fiduciosa che da un orientamento che può essere in chiave più opportunistica si passi invece concretamente a decisioni economiche prese con uno spirito diverso rispetto a quello che in tante occasioni abbiamo visto essere quello dominante. Io ringrazio allora la professoressa Elena Beccalli che è preside della facoltà di scienze bancarie e finanziarie assicurative presso l'università cattolica e ordinario di economia degli intermediari finanziari ma poi membro scientifico di molti istituti di ricerca nel mondo quindi insomma persona davvero attenta a questi temi che non potevamo non invitare e vi invito veramente ad approfondire queste tematiche che mi sono abbastanza care anche se sono un po' diverse diciamo dalla mission normale della nostra trasmissione. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie molte a voi è stato un piacere grazie. Bene adesso siamo alla conclusione di questa seconda parte del programma torniamo come sempre tra poco e quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo subito in modo virtuale per andare presso la basilica di Santa Maria di Lourdes a Milano amato santuario mariano dove l'arcivescovo ha presieduto la consueta celebrazione eucaristica nella giornata mondiale del malato. Percorrere imparando da Maria le vie della preghiera, della compassione e della gioia. Nel giorno in cui ricorre il 165esimo anniversario dell'apparizione della Madonna Santa Bernadette su Biru e si celebra la 31esima giornata mondiale del malato è l'arcivescovo a ricordare il significato cristiano di queste tre vie indicate a tutti. Nella basilica santuario dedicata appunto a Santa Maria di Lourdes, gremito di fedeli, malati e volontari, il vescovo Mario presiede la messa di mattina concelebrata da altri sacerdoti tra cui il parroco Don Maurizio Cuccolo che porge il saluto di benvenuto. Siamo qui oggi non per celebrare la memoria di un evento passato ma per condividere con Maria l'altezza della nostra vocazione, chiarissima l'invocazione del vescovo Mario. Siamo qui per chiedere a Maria di insegnarci le vie della gioia che hanno una ragione più profonda del benessere. E poi l'insegnamento delle vie della compassione. Le vie della compassione richiedono una libertà dall'amor proprio, dalla tentazione di ripiegarsi su di sé, di continuare a guardare alla propria vita, a piangere sui propri mali, a vantarsi dei propri meriti. Senza dimenticare naturalmente le vie della preghiera. Possiamo fare così poco ma questo possiamo fare, presentare a Dio il volto delle persone che amiamo, il volto delle sofferenze che incontriamo. Fin qui l'arcivescovo durante la celebrazione ma nei giorni immediatamente successivi ha visitato anche l'ordine dei medici e degli odontoiatri di Milano, la sede. E dialogando proprio con i vertici di questa istituzione ha parlato di paradossi oggigiorno di cui soffre la sanità, diciamo in senso generale, una sorta di decalogo dei paradossi lo ha definito, tra cui uno c'è parso fondamentale, ve lo proponiamo in questa intervista. Eccellenza, una sorta di decalogo per parlare dei paradossi anche oggi della professione medica e della sanità, tra questi l'eccellenza chiarissima che è in Lombardia e che però crea una sua insostenibilità, basti pensare alla lista d'attesa, basti pensare anche a una sanità pubblica che ha bisogno comunque del privato, occorre ripensare anche a questo sistema. Si sa che i paradossi sono espressioni provocatorie, quindi bisognerebbe entrare nel merito di questioni molto complesse e certamente il Covid e le conseguenze che ne vengono ha creato uno sconvolgimento, ha provocato una angoscia diffusa, ha creato anche condizioni di allarme e la difficoltà della medicina di base, quindi di una forma graduale e diversificata di accompagnamento dei malati, rischia di essere veramente un motivo di questa insostenibilità. Io non sono un tecnico e non sono in grado di analizzare meglio la situazione, però credo che sia un appello condiviso, quello di un ripensamento che proporzioni il servizio ai cittadini e a tutti i cittadini, anche a quelli che non hanno le risorse per accedere a forme di sanità privata che appunto è accessibile solo a chi dispone di un certo numero di risorse. Bene, parole su cui riflettere. Abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, io vi segnalo solo che giovedì prossimo 23 febbraio andremo in onda in un orario leggermente diverso, alle 17.45 circa perché c'è la vera religione di questo paese che è, come dico sempre, il calcio e comunque sarà bello anche precedere una grande partita. E allora grazie per averci seguito, torniamo giovedì prossimo 17.45, arrivederci, ciao! Grazie a tutti!